Musica Eccoci qua, eccoci qua, il venerdì vita Oggi il venerdì village del ristorante convento di Lanata di Brescia Loro, le amicizioni della provincia di Verona Le donne più belle del Veneto hanno scelto il ristorante convento Per festeggiare lei, la regina del Tour de France Lei, che si sposa, un applauso a Rihanna Ok, prima cosa, hai i tuoi bigliettini in mano da un'ora, leggilo Perché voglio sapere cosa c'è scritto Vicino al microfono parla come parlo io Devo vendere una brocca di tavernello a 5 euro C'è una... un brico di tavernello a 5 euro A 5 euro, ok Quindi appena usciamo vado in console Dico ragazzi, tirate fuori 5 euro Esatto Che la sposa gli dà una grande e bella sorpresa Loro pensa già a chissà cosa Esatto E invece te li dai tavernello Ok Arianna, con chi ti sposi? Con Valentino Con Valentino Quanto? Il 27 giugno Il 27 giugno Subito per te Arianna, una domanda a bruciapelo Un pregio e un difetto di Valentino? Un pregio è determinato Ok Un difetto è troppo pignolo È troppo, però vedi le sa prima già Le sa tutte Arianna, cosa fai di bello nella vita? Impiegata per la Unipolsi Ok, quindi fai le assicurazioni Provi Tutto quello che gli italiani amano Vengono da te Esatto Ho più passioni nel tempo libero Cosa ti piace fare con il tuo futuro marito? Che si può dire, ovviamente Siamo in fascia protetta Mi piace stare principalmente all'aria aperta Visto che per 8 ore sono sotto i neon Ok Cosa ti piace fare nell'aria aperta? Pilates Ti piace fare pilates? Ok Giardinaggio Ti piace fare giardinaggio? Piantare i fiorellini Cosa ti piace fare in particolare quando fai giardinaggio? Piantare i fiorellini I fiorellini? Oh, bello Piantare i fiorellini Ok Che canzone cantiamo Arianna? Certe notti Vai Tutta Verona canta Certe notti Piantare i fiorellini Sempre a me Capito chi sei Dai, fuori la voce Certe notti Certe notti Piantare i fiorellini Piantare i fiorellini Più forte Più forte Che ci si accontenta la lente Così, così Certe notti Piantare i fiorellini Piantare i fiorellini Più forte Che ci si accontenta la lente Più forte Più forte Piantare i fiorellini Vai per Arianna! Certe notti qui! Lo che ho sentito! Che se ti accontenti godi, godi così! Certe notti sorgotti, volere che andiamo a voi! Tanto Mario riaprendi prima o poi! Certe notti qui! Certe notti qui! Certe notti qui! Arianna, il 27 giugno, direttamente da Verona, si sposa con il suo Valentino e con la sua carriola di fiori! Certe notti sei solo più allegro, che un cuorso più gelo e un coglione che vuoi! Quelle notti sono proprio come inizio, che non voglio spezzere, spezzere mai! Certe notti qui! 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 Certe notti qui!